Vanessa è l'acronimo di volontari ANPAS, esperte in sportelli antiviolenza. Lo sportello Vanessa l'abbiamo inaugurato a giugno del 2021 e abbiamo poi con Solvay, che ci ha dato una casa a disposizione, abbiamo aperto anche la casa d'emergenza, casa Vanessa, dal 7 di dicembre del 2023. Dal 3 di gennaio abbiamo ospitato due donne e cinque bambini. Si sta anzi pensando di aprire addirittura un'altra casa perché l'esigenza di accogliere altre donne è veramente importante. Io ho il telefono della ripetibilità e tutti i giorni io ho richieste di donne da mettere in protezione e quindi questo fa sì che ci siamo dovuti un pochino a guardare intorno e probabilmente apriremo anche un'altra casa. In Toscana sono stati aperti 18 sportelli del progetto Vanessa, però noi vorremmo esportarli oltre la Toscana. Perché? Perché nelle pubbliche assistenze ha un senso aprire lo sportello. Prima di tutto perché abbiamo la fiducia dei nostri soci. Lì trovi comunque donne al tuo pari, volontarie, che comunque ti accolgono, ascoltano e non ti giudicano.